Prego, il ramen sarà pronto tra pochi minuti. Eh? Cosa? Procioni! Cattivi, cattivi, cattivi! Ah, dannati procioni, di nuovo nella spazzatura! Non siamo procioni. Eh? Ma tu sei un orsacchiotto. Non farci male! Oh, tre orsacchiotti! Tranquilli, venite, venite, non vi farò niente. Eh? Come? Che cos'hai? Può darci un po' d'acqua, per favore? Oh! Grazie, ci ha salvati dal caldo. Ah, puoi darmi del tuo. Io sono Kasumi. Io Grizz. Panda. E lui? Aspetta, aspetta, non dirmelo. Secondo me ti chiami Shiro-chan. Oh, che carini, siete davvero adorabili. Oh, poverini, siete proprio affamati. Sto preparando del ramen, ne volete un po'? Che cos'è il ramen? Non lo so, ma lo mangio lo stesso. Sì, perché no? Ecco, arriva subito, Kasumi, spezzalo. Caspita, sembra buonissimo. Buon appetito. Appetito. Allora? Vi è piaciuto? Eh, beh... Rodosso. Eh, spaghettoso. Aspetta, non hai finito il piatto di ramen. Ho sbagliato qualcosa, forse? Quel ramen è orribile. È oltraggioso servirlo ai clienti. No, aspetta. Ti prego, dammi un'altra possibilità. Premetto che lo cucinerò... Posta! Kasumi, se non riuscirai a preparare un ramen come si dà dentro questa settimana, non avrò altra scelta che chiudere per sempre questo ristorante. Le possibilità te ne ho date fin troppe. Ma chi crede di essere quello? Già, chiudere un locale perché non gli piace una cosa. Come si permette? Quello è... Lui è mio padre. Cosa? Kasumi, tuo papà è proprio severo. Anche se noi non abbiamo mai avuto un padre. Non fa niente. Vi cucino subito qualcosa. Spero che non sia altro ramen.